Allora quest'anno ci restano due che sono enormi, una a 14 metri lunga, c'è un diametro di 2,5-2,6 davanti e quell'altra che fanno qui sopra 18 metri e c'è un diametro quasi di 3 metri e mezzo. Salve, c'è qualcuno che è tornato per fare questa fracchia per tirarla stasera? Sì, ci sono, lui è uno, è il primo, è un tedesco emigrato. Un po! Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.